Ciao a tutti ragazzi, sono Kerren e sono appena tornato da una Napoli che piove Cioè, mi aspettavo che iniziava a piovere diciamo a settembre Ma non mi aspettavo il 2 settembre, quindi sono appena tornato Sì, sono sceso presto stamattina E sono le 9.30, quindi sono ancora nel mio orario propenso al pull Anche se avevo deciso di non pullare ma di accumulare Dreamable Finché non avessi raggiunto una quota di 300-400 Raga non ce la faccio, non ce la faccio proprio, è più forte di me Lo devo fare, come si vede che mi sono messo la camicia solo per fare il video a volo Perché tenevo la tuta col cappuccio un gap Come si vede che mi sono messo la cosa solo per fare il video a volo I capelli se ne sono abbassati logicamente Sì, sotto la pioggia è normale E quindi ci facciamo questi pull velocissimi Sto un pochino scazzatello, quindi come solito non ci fate caso Vogliatemi bene anche quando sto scazzato Perché quando sto scazzato ho bisogno di più amore possibile Quindi quando sto scazzato datemi amore Quindi andiamo a pullare per Margus Rimangono altri 30-20 minuti per il mio periodo fortunato Quindi ce la posso fare Sono 4 multi, ce la posso fare Ce la posso fare, ce la posso fare Ce la posso fare, ce la posso Dopo lo shaft del video Se avete visto il video che ho messo ieri sera Dopo lo shaft tremendo di ieri Cioè, di stanotte, di qualche ora fa Cioè, ora la club mi deve dare Mi devi di pagare in qualche maniera Ok, già mi stavo cagando su Mi devi di pagare in qualche maniera Cioè, per forza, è forzata come cosa Ok, già mi sta salendo l'ansia L'ansia, 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 l'ansia Cioè, io tengo 4 personaggi Mi esce Diaz Verde doppione Tengo 4 personaggi crociati sull'account Che cosa mi esce un doppione? Soprattutto Ti lasciamo che non mi è uscito un redact Mi esce un doppione Cioè, io tengo 4 personaggi crociati su questo account 4 crociati E mi esce un doppione La stessa cosa è successa con i ticket 4 personaggi crociati E mi sono usciti i doppioni 4, ne tengo 4 crociati da Dio Ma come si fa? Cioè Be, ba Be, be, ba Cioè, no Boh Mi rimangono solo 3 pull Ho ancora la storia da fare Altro 200 Dreamable Ne escono Vuoto Vuoto, 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 vuoto No, fiamme Fiamme Mi sento pessimista Non è male proprio Però 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 Che devo fare? Al massimo rifaccio la storia E Ce ne usciamo con un altro Come è possibile Che mi esce Calz Non il retap Che era il retap Di quell'altra volta Io non ho pullato apposta E mi esce Calmo Fabio Cioè, io ho aspettato Che passasse il retap Di Calz Per non ripullare Calz E io pullo Calz Cioè ma Troll 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 Maxim level Troll Ma a me ne rimangono solo 2 Vuota E ragazzi Purtroppo Vi dico la verità Mi sento che anche la prossima Sarà vuota Che trollata però Cioè io non ho pullato apposta E tu praticamente Mi fai uscire Cioè Ci rendiamo un altro doppione No Sono sconcertato Sono sconcertato Semplicemente perché Sono sconcertato Semplicemente perché Io ho aspettato apposta Che cambiassero i personaggi Il retap L'ho aspettato apposta Proprio per non Ripullare Calz Per essere sicuro Che non mi uscisse Calz Dai pull Cioè io Apposta L'avevo aspettato Ma proprio apposta Ho aspettato Che il banner Cambiasse In modo da Non ripescare Calz Come è possibile Dream Festival Perché non mi sembrava il caso Io ho aspettato E tu mi rifi Mi rifi Di nuovo Cioè Ora Mettiamo che questo Cioè Mettiamo che questo pull Mi uscirà a vuoto Io ho praticamente pullato 4 Volte Se questo pull Mi aveva Ho preso 3 E 2 sono Doppioni Anche se questo Mi sa di Di vuoto Proprio Vuoto male Vuoto Vuoto Chiudiamo gli occhi Alziamo il volume Vuoto Regà No memoria Memorie Memorie vuote Sono delle Memorie vuote Che cazzo E ragazzi E ragazzi Sono delle memorie vuote È stato un troll È stato un troll È stato un troll È stato un trollino Mi ha trollato Mi ha trollato Non c'è Non c'è neanche Non c'è neanche spazio Nell'inventario Se non fare Qualche Signoletta E quindi ragazzi Sono stato altamente Trollato Dalla Che lab Ma proprio In maniera Ardora Quando ti dice Proprio ti trollo Ma poi te lo metto Nella Nel Nel Sederin Sono stato trollato Dalla Che lab In malo Moto Praticamente Prendendo Su 4 pull Due doppioni In un account In cui Ho 4 personaggi In croce Ho aspettato Apposta Che finisse Calze In retap Per non Beccare Calze Ma ho Ribeccato Calze Nye Boh Boh Mi sa che Non è più Il mio orario Fortunato Mi sa solo Che se sto In un attimo Di spiga Proprio Acuta E Beh Babà Che dire Ragazzi Non mi aspettavo Devo dire la verità Mi aspettavo Di prendere Margus Tipo subito Invece Anche oggi Devo farmarmi Tutta la storia Per ripollare Quindi Anche oggi È di È di storia Niente da fare Pensavo di scamparmela Di potermi Rilassare un poco Ma Devo continuare A farmare Dreamable Su Dreamable Su Dreamable Su Dreamable Praticamente Mi sto bruciando Tutta la storia E ho preso Soltanto Niente Vabbè Comunque Te lascio La mia spiga Di Di questo Dreamfestival Che sta andando Proprio Bestiale È una cosa Brutale Però Te lascio Questa cosa Spero che Voi sia andato Meglio di me Ho ancora Da pollare Quindi sicuramente Ci rivedremo Presto Con Il resto Dei pool Eccetera Eccetera Puntiamo sempre A Margus Perché mi serve Margus Nel caso in cui Mi esca Chester Comunque non è male Stessa cosa vale Per il Kaiser Genzo No Ma a quanto pare Mi vuole uscire Solo Calz Quindi lo chiameremo Il Calz Festival Il Calz Festival Detto questo Perdonatemi Per il video Super scombi Ma sono tornato Dalla pioggia Mi sono buttato La camicia Addosso La camicia Video Addosso Ormai Questa è diventata La camicia Video Mi sono buttato La camicia Video Addosso Semplicemente Per fare il video Alla velocità Della luce E non è andata bene Come speravo Quindi Davai Cacdela Vi ricordo In ogni caso Che ci sono In descrizione Link sia per Facebook Che per Instagram Che Anche per Il gruppo Dei Cavallieri Dello Zodiaco Per chi voglia Giocare Cavallieri Dello Zodiaco E per questo video È tutto Ci becchiamo Penso stasera Perché ora Farbero come un Mentecatto Finché non riesco A fare almeno Al 300 200 dream E devo Pullare 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 Per questo video È tutto Ci becchiamo Alla prossima